cosa ci sono in questi due pacchi non so cosa sono sinceramente quindi andiamo a vedere ok cavolo come avevano imballato manco questo oro allora sono i pacchi delle eliche di ricambio per il mio drone dovrebbe essere 20 mi sembra una ventina non mi ricordo sinceramente quante sono 3 10 aspettate su 10 paia 5 10 sono 30 paia di eliche abbiamo la scorta a vite in più non ho fatto il video purtroppo però mi erano arrivate altre eliche eccole qua che quindi abbiamo veramente una scorta abbiamo 24 paia e 30 paia di eliche 30 eliche 34 paia di eliche cioè ragazzi abbiamo veramente una scorta di eliche infinita in più in queste ci sono anche delle viti di ricambio che male non fanno mettiamole da parte in questo non so cosa sia non so sinceramente neanche se è il mio ok questo pacco qua non è il mio un libro libro che non lo so questo pacco non è un mio pacco quindi non serve più di tanto infatti pensavo fosse un libro dalla consistenza abbiamo tutte queste eliche cioè vi faccio vedere queste che sono arrivate guardate 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 ne ho queste 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 e queste abbiamo una miriade di eliche quindi possiamo schiantare il drone una trentina di volte quindi significherebbe romperò ogni volta che mi schianto ma non succederà spero se ne abbiamo veramente un sacco queste qua peraltro le ho prese gialle perché non c'erano altri colori più che altro erano le prime che mi arrivavano queste ero dubbioso se mi arrivavano o no quindi comunque sono arrivate e adesso possiamo fare i video con il drone torneremo a far volare il drone quello piccolino vi posterò il video con gli occhiali quelli nuovi questo unboxing inaspettato finisce qua e torneranno presto i video nuovi video questo è il primo dopo che ho riparato il computer risistemato sì perché sono riuscito finalmente a risistemarlo ho montato un ssd nv e mi da un tera quindi ultra veloce windows adesso si accede in 5 nanosecondi è una roba pazzesca quindi torneranno presto molti video a partire da questo ciao Grazie a tutti.